Questo accessorio cambierà il tuo modo di creare contenuti. Puoi girare video immersivi usando questo nuovo supporto. Per indossarlo basterà metterlo al collo, allacciarlo, prendere il telefono e agganciarlo. Supporto perfetto per i video unboxing o riprese immersive. Davvero comodo per avere le mani libere. Se vuoi far salire di livello i tuoi contenuti dagli un'occhiata.